C'è chi sostiene che debbano essere accorpate e riorganizzate per garantire maggiore celerità al percorso legislativo. Ma attualmente sono cinque le commissioni consigliari permanenti cui spetta il compito di esaminare proposte di legge e provvedimenti amministrativi. Sono le commissioni affari istituzionali, bilancio e programmazione, attività produttive, territorio e ambiente, politica sociale, controllo, verifica e monitoraggio. L'unica che, secondo quanto prevede il regolamento interno del Consiglio regionale, è presieduta da un consigliere dell'opposizione. Ogni gruppo consigliare, subito dopo la propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle singole commissioni, che restano in carica per 30 mesi. Il Presidente ed i membri della Giunta hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni ogni volta che la loro presenza venga richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o dai Presidenti delle commissioni. Grazie a tutti.